è indagato per omicidio colposo il geometra di 57 anni che nella serata di sabato ha investito ucciso la moglie di 48 anni nel cortile di casa corteolona in via 20 settembre il dramma è avvenuto attorno alle 21 la coppia avrebbe avuto una discussione l'uomo è uscito di casa ed è salito in auto dopo aver messo la retromarcia ha innestato la prima per uscire dal cortile e a quel punto ha investito la donna che a sua volta era uscita dall'abitazione una dinamica sulla quale stanno ora indagando i carabinieri di stradella dopo l'investimento il 57enne è subito sceso dall'auto per prestare soccorso alla moglie mentre alcuni vicini chiamavano il 118 i medici giunti dopo pochi minuti hanno però potuto solamente constatare il decesso sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e il 57enne è stato in seguito accompagnato in caserma per un primo interrogatorio durato alcune ore l'uomo ha raccontato ai militari di non aver visto la moglie mentre faceva manovra l'esito del primo esame sul corpo della vittima sarebbe compatibile con il suo racconto l'auto usata dal 57enne è stata sequestrata si attendono ora le perizie medico legali e tecniche per fare piena luce su quanto accaduto nella serata di sabato l'uomo dopo l'interrogatorio è stato riaccompagnato a casa